Attimi di paura ieri a Tez sul Brenta per un incendio scaturito lungo l'argine di Viale Brenta. Ad accorgersi delle fiamme i titolari di un locale della zona che hanno allertato immediatamente il sindaco Valerio Lago. Giunto sul posto il primo cittadino compresa la gravità della situazione e temendo che le fiamme si estendessero ad alcune automobili posteggiate nelle vicinanze dell'argine ha lanciato la chiamata al 115. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno fermato l'incendio. Ancora al vaglio l'origine delle fiamme al momento non si escude neppure l'ipotesi del dolo.